Dai campi nomadi a micro aree estanziali d'accoglienza per cittadini rom e sinti. Nella gestione delle circa 50 famiglie zingare ospiti sul territorio comunale, l'amministrazione di Vicenza sceglie il bastone e la carota, aprendo da un lato ad insediamenti strutturati e dignitosi in 5 quartieri cittadini, ma pretendendo dall'altro la venuta trasformazione da parte dei futuri ospitati in cittadini modello o quasi, verificando un effettivo reddito regolare, cittadinanza, residenza e stato di famiglia. Potrebbero essere molto interessanti delle micro aree in cui 2, 3, 4 nuclei familiari con i loro bambini, ovviamente con le loro casette, quando decidono di finire di fare i nomadi diciamo, con le loro casette, lì possono integrarsi i bambini che vanno a scuola. Strada Pelosa, Carpaneda, Bertesina, Raccordo Valdastico e Vicenza Est, le micro aree disegnate al momento sul piano di accordo territoriale. Non sono ancora perimetrate, ne avranno alcuna concretizzazione senza concertazione con la città e comunque solo previo un percorso di accertamento, al cui termine ci deve essere una famiglia nomade in grado di sostenersi con un lavoro regolare. E se Palazzo Trissino si adopererà per andare oltre i pregiudizi ed aiutare a trovare un'occupazione a questi cittadini, sempre i suddetti cittadini non saranno lasciate altre alternative se non la legalità di un lavoro onesto. Rispetto verso queste culture, però dentro alle regole del gioco.